Dopo essere stata rispinta in votazione per ben due volte, la popolazione svizzera ha deciso di adottare la riforma AWS 21, in vigore dall'inizio del 2024. La novità più controversa e dall'impatto notevole è certamente l'inalzamento dell'età di pensionamento delle donne, da 64 a 65 anni. Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l'età di pensionamento sarà aumentata per gradi. Donne dal 1964 in poi andranno in pensione, come gli uomini, a 65 anni. La riforma AWS non presenta solo svantaggi, ci sono anzi diverse opportunità. Ad esempio, l'età di pensionamento diventa flessibile e sarà inoltre possibile scegliere una rendita parziale in caso di pensionamento anticipato o posticipato. Infine, per chi decide di lavorare oltre 65 anni, i contributi versati in più andranno a incrementare la rendita. Contrariamente a quanto accade oggi, l'AWS è uno dei pilastri del sistema previdenziale svizzero. Affinché in futuro possa riuscire a garantire il minimo assistenziale a tutti gli svizzeri, ha bisogno di riforme. Se quella in vigore sarà sufficiente, non possiamo saperlo oggi. È dunque ancora più importante pianificare per tempo il proprio pensionamento, al fine di evitare lacune di reddito. Vizzetta può essere di aiuto in questo senso, perché è il numero uno nella pianificazione del pensionamento in Svizzera. Non esiti a richiedere una consulenza. Trova ulteriori informazioni nel video Quando pianificare il pensionamento.